Musica E ma, cos'è sto buio? Franca, dov'è mia moglie? Sotto a terra Sotto, in cantina vuoi dire? Sì, e da stamattina è che giù Franca, ma che fai là sotto? Ma come, ti sei già dimenticato della spedizione stelologica? Eh... Ma non dovevamo andare in crociera? Neanche per idea, scendi che ti devi allenare Scendere dove? Ma qui in cantina, no? Cosa ti vuoi allenare lì di sopra? Accidenti però, com'è umido qua giù, eh? Che scoperte, cosa vuoi che il vino sia asciutto adesso? Vino! Oh! Mi hai fatto entrare nel vino nuovo? Sì, perché? Secondo te avrei dovuto farti entrare nella botta del vino vecchio Con tutto quello che costa Sbrigati che dobbiamo fare all'iniezione Buono, iniezione? Ma caro, quella contro gli insetti delle caverne Sono velenosissimi Oh no, io iniezione non ne faccio Poi io vado in crociera Oh che furbo, e se poi ti punge la mosca da pum? Cos'è questa mosca da pum? Questa è, guardala Oh, mi è scappata Accidenti, dove, 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 dove? Attento, ferma, fermasela Aia, l'hai presa? No, è dall'altra parte Presto, prendila Aia, mi ha morsicato presto, fammi l'iniezione Sì, sì, come vuoi tu? Aia! Visto se non ci fossi io Ora sei pronto per andare a fare la spedizione nelle caverne? No, io la spedizione non la faccio Io voglio andare in crociera Caverne Crociera Caverne Crociera Caverne Crociera Caverne, caverne, caverne Anzi, due gravi a dritta Ma cara, cosa fanno in una lavatrice? Una lavatrice? Ma che marca è? Una Zopas Ah beh, allora vi sta bene Zopas La prima lavabiancheria italiana A ciclo completamente automatico Signora, con la superautomatica Zopas Se vuole può scegliere le temperature E i tempi di lavaggio che preferisce Sono infiniti i programmi che lei ha a sua disposizione Per lei ci vuole la superautomatica Zopas Silenziosa Robusta Perfetta Un marito che sa Una moglie che vale Per la loro casa scelgono superautomatica Zopas Per la loro casa scelgono superautomatica